Questa mattina, ospite alla Zanzara, Cruciani stava cercando di fare delle domande inappropriate a Fedez, il rapper milanese, quando poi proprio il cantante decide di rivoltargli la frittata e di fargli, prima ancora di sapere la sua, un'altra domanda a trabocchetto. Secondo Cruciani era meglio Muschio Selvaggio adesso oppure prima? Ebbene, ti lascio il video che è stato caricato poco fa nelle storie di Fedez e ci vediamo al mio prossimo video YouTube. Ti posso fare una domanda su Muschio Selvaggio o no? No, te la faccio io da una domanda su Muschio Selvaggio. A seconda te, Muschio Selvaggio era meglio prima o è meglio adesso? La domanda è inappropriata perché dobbiamo chiudere, giusto? Arrivederci, italiani!